Ciao ragazze ragazze oggi abbiamo un nuovo video e oggi ragazzi giochiamo con Checco Eccolo qui Stipico E ragazzi giochiamo con Checco Nella serie di Minecraft E giocheremo per sempre con Checco Scherzandolo qualche volta con Checco Ovviamente si deve fare anche nella casa No Come si fa? Questo è il terzo episodio di Minecraft Ita Ragazzi con Checco E ovviamente ragazzi Ma non so più dare una pecconata E oggi ragazzi andremo a fare il letto Perché dobbiamo farlo E tu l'attivo al giorno perché si deve mettere Perché se no Si può Andiamo a cercare il letto Perché oggi ragazzi dobbiamo fare la lana Una lana buona Anche lo facciamo qui E' più bianco Anche per me Anche per me E' normale Non mi avevo fatto niente Però ho fatto il proprio Vabbè raga Oh sono tu Dobbiamo cercare un po' di vedere Se ceva il po' di un po' di Sceglie da prendere un po' di vedere Un po' di vedere Pecora Pecora Un po' di imparata Prato Sceglie da prendere un po' diizione Sceglie da prendere un po' di coperni ah asciutta vengo venuta, vengo venuta teneva, non potevo fare niente, mi ha asciuttato quel coso teneva il tridente vengo 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 vabbè si prendi teneva il tridente quel pezzo di merda cazzo ricco cazzo no è andata qua la vita la casa la vita il lutto penso che il lutto lo so dov'è il tridente però c'è la vita è una pecora buona buona questa è buona per farti il letto cosa andano le spawni a casa mia cioè dove sta o gallina eccolo 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 devo ucciderlo io come si può prenderlo? sta qua sta qua altra roba non si può prendere qua 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 devo ucciderlo dove stanno? non lo so se lo metta qua mamma non la lascia di farci eccolo eccolo ecco il bastardo io voglio buttarlo io voglio buttarlo voglio schiattarlo ne vengono un altro sarò uno scheletro ahhh ma capita mi vuole il cilinero mi vuole il cilinero mi vuole il cilinero ma che vuole? sono morto che coi 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 ma è fortissimo sta tridente ma c'è lui no devo ammattare con l'una con il tridente basta ma se è serio? ma no io voglio che basta ah scelta fammi il mio lutto no sta vicino al tuo il mio lutto eh mo si è mischiato tutto a me non è la cosa peggio ecco il cilinero oh aspetta peggio aia via le armi prima adesso ecco la spada e dai è un'altra spada è mia 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 pensa questa è tua aiaa ma tortono non ho guardato tutti i cuori stai così in merda e guarda com'è BUSTA non me l'ha dato però com'è? no non me l'ha dato vabbè va niente dai dai piglia piglia tutto e poi aspetta non mi vedere no non hai niente no la spada non ce l'ho eh mo ce l'ho io ma no allora tu la doi eh quello è mio e le bastancine oh cos'è? oh creeper c'è data la clint la flint eh mi devi dare la clint e tu dammi l'oro allora spada eccola no ma non lo devi portare qua ecco allora pietti la spada che sta qua poi ti devi pigliare qui solo ehm questo che era tuo ancora ce l'ho io questo che era tuo i bastoncini erano tuoi no perchè non erano oh l'alpera mio tieni poi la lana se la do perchè è tua sarà tua ehm questa è la tua questa è la tua stava nel termine tieni tutto questo ehm sì stiamo nella casa ma perchè io dammelo doppalo ma lo sto registrando ma lo sto registrando ma lo sto registrando no lo sto registrando raga mi ho pigliato una chuckle un secondo e poi che cosa c'è ehm nient'altro c'è un altro zombie di questo nient'altro aspettate raga ehm tipo oh ecco di nuovo ragazzi siamo andati a fare un'altra mangiare vedi sa uno che sta di qua guarda niente l'acqua dove la lo sto vedendo ah sì ho un altro dente è vero quindi mi ha tolto tre cure alla volta l'acqua ma che cosa l'uccidiamo sembra l'uccidiamo no ma non è questo ecco ce ne sei un altro ecco l'oltre dente ah già grande no non me l'ha dato ma perchè non ci danno niente eh perchè è difficile lo sai trovare no 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 ma perchè io li butto vada qua che c'entra li butta perchè li li lanciate però non si possono prendere ecco pure che riesce a prendere ecco i pesci li ho presi io com'è eh questo è un altro pesce no no non l'ho presi io comunque che cosa quante lana hai alimentare eh una casa ce ne serve un'altra che devo farti il letto pure lì va bene quindi cominci a cercare aspetta io ho quattro pesci quattro pesci cinque quattro è morto come dire vabbè raga dobbiamo andare a trovare sull'ultima lana e poi possiamo fare il sesso oh lui ho gancato ho trovato un uovo è un uovo è un uovo è un uovo è un uovo lo vuoi rosso io lo voglio rosso io lo voglio rosso sinceramente un beletto rosso molto carino io ho blu è blu però ho già visto blu ok allora ho un giusto blu poi devo mangiare quando andiamo a casa c'è la carne cotta in casa già cotta già pre-cotta e la libertà nananana la libertà tieni la carne è cotta cazzo cosi questi puoi ok sono il cucinatore come sono queste vanno qua devo mangiare così mi ricordo mi recupero quattro cuore che mi ha fatto passare fuori il tridente con una parola di cola aspetta no di merda lo puoi dire sesso puro quindi vabbè tanto lo censuro cazzo tanto anzi le taglio le parti ecco qua il cammino ho fatto così guarda forse così ho fatto il cammino va va perché va bene perché no vabbè ecco qua bracciacchi ecco l'ultima pecora eccola qua ragazzi l'ultima pecora ferro 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 ecco ciao mamma mannaggia chi l'ha chiata si doveva chiamare 14 non c'è un altro caricatore eh no non ci sono i caricatori in questa casa praticamente che è ci ha messo a 14 12 questo sta 14 ah no no sto ancora in internet eh aspetta importi un piccone di 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 ecco questo piccone vieni dammi vieni dammi dove stai? la vedi? dove stai? ecco e vai sta un po' più dietro la casa vai la e dammi il tuo piccone perchè ci sta un po' di perro ci sta un po' di perro ma dammela a me però è un po' di perro però dammela a me dopo che lo devo far vedere perchè siamo bravi di natura no anche perché perro però io ho trovato qui stai cazzo è ferro? è mafia ma io dommelo a me che ho un po' di roba dammi un attimo e dammelo ma che cosa? un ferro perchè devo crearci un piccone di ferro a tutti e due te la facciamo? quanto ferro è? quattro non ce la facciamo a crearci due però vabbè lo prendi tu per ora quanto ferro è? vabbè raga detto tutto questa serie penso che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel piace iscriviti attivate la campanellina e con clicco e car con clicco e noodle 78 è tutto ci vediamo ad un prossimo video ciao